Questa mattina con la presenza dell'Arcivescovo Moretti abbiamo collocato sotto la torre cardiologica, nell'atrio di ingresso della torre cardiologica, il defibrillatore automatico che l'Associazione Salernitana, portatori di elettrostimolatori cardiaci, ASPEC, aveva già donato all'azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Questa collocazione è stata scelta a causa del grande flusso di persone che quotidianamente, come voi potete vedere anche questa mattina, sono presenti nella torre. Noi speriamo che il defibrillatore non venga mai usato, lo mettiamo qui come auspicio che vi sia una diffusione di defibrillatori automatici esterni sul territorio per combattere la morte improvvisa cardiaca. Noi speriamo che il defibrillatore non venga usato, 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 non venga usato.